E' tutto pronto per la gara nazionale di pesca sportiva specialità self-casting. Appuntamento domani alle 19 incontrata a Zafaglione sullo litorale tra Marina di Acate e Gela. Si tratta della 17esima edizione, una delle manifestazioni più importanti del Sud Italia. Già hanno dato adesione a 200 atleti che provengono da tutta la Sicilia, Calabria e Puglia. Ovviamente questi atleti sono stati già dislocati nella giornata di oggi presso gli alberghi e le strutture che abbiamo nella nostra città, dove rimarranno la giornata di oggi e quella di domani. Diversi atleti già avresti iscritti alla competizione? Noi abbiamo molti atleti che il prossimo settembre andranno a fare il campionato italiano a Latina. E porteranno avanti in alto il nome di Gela? Abbastanza, sì. La gara di domani si concluderà a mezzanotte, un'ora dopo, è prevista la premiazione. Gli atleti saranno a disposizione del giudice di gara alle ore 15.30 presso il residence contatto a Gela, dove avverranno tutte le operazioni preliminari, i sorteggi e poi si partirà per il campo gara, che è quello stabilito e di contrato a Zafaglione.